Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e finalmente sono qui con un pack opening in occasione del Furt United che durerà dal 6 all'8 febbraio ci sono questi pacchetti speciali da 15.000 crediti e anche da 25 e quindi ho deciso di fare questo pack opening e vediamo subito il primo pacchetto Amrabat non male il giocatore del Malaga però nient'altro oltre a questo giocatore quindi conserverò tutti i giocatori e proseguirò ho dei pacchetti molto grandi, infatti ci sono tantissimi contratti che adesso vado a conservare tutti e non c'è nient'altro, quindi passeremo al secondo pacchetto e speriamo in una maggiore fortuna secondo pacchetto di questo Furt United, altri 15.000 crediti che se ne vanno saltiamo subito e vediamo Strotman, niente male 81 anche se è sempre infortunato e Keita il giocatore è davvero molto buggato, ottimo per una serie A qui andiamo a conservare tutti i contratti, non ci dovrebbe essere nient'altro visto che i giocatori sono solo nella prima parte del pacchetto comunque andiamo a vedere, qualche forma fisica, ottima e come doppione uno stadio, quindi andiamo avanti terzo pacchetto di questo pack opening e saltiamo subito e vediamo cosa troviamo Padoin, Lukaku e Escudero, non un granché comunque buono Lukaku visto che è un 80 della Barclays quindi lo conserverò e lo metterò subito in vendita giocatore belga dell'Everton, davvero eccellente conserviamo anche Padoin e mettiamolo in vendita visto che per qualcosa dovremmo riuscire a venderlo e non ci dovrebbe essere altra roba da conservare quindi proseguiamo altro pacchetto, non male fino adesso però anche meglio Robby Keane buono da tenere soprattutto per quando ci sarà il torneo irlandese anche Tosic e questo giocatore davvero interessante del Feyenoord quindi non male questo pacchetto vediamo se c'è qualche doppione interessante Sandro che però ho già quinto pacchetto speciale del FUT United questa volta non guardiamo e abbiamo trovato Samuel e Vidic giocatore molto forte di testa però diciamo che non è velocissimo e quindi non è molto buono per la difesa la bella maglia del Real che conservo vale anche molto tra l'altro e andiamo avanti siamo al settimo pacchetto ma anche questa volta niente Muntari Xandao tanti contratti buone forme fisiche e con co doppione non male mi sa che tra un po' terminerò visto che non sta andando benissimo questo pack opening proviamo con un altro pacchetto vediamo se riusciamo a trovare qualcosa questa volta saltiamo subito Corluca Navas Skylor Navas del Real non male però nient'altro solite forme fisiche vediamo se c'è qualcosa niente questa volta è davvero brutto questo pacchetto penultimo pacchetto di questo FUT United che andrò ad aprire visto che ormai i crediti sono stati consumati è arteta un buon 80 però non mi è molto utile un argento anche lui molto lento niente in questo pacchetto vediamo se c'è qualche doppione interessante un bel po' di crediti regalati quindi forse riusciremo ad aprire un ultimo pacchetto infatti ce la facciamo quindi andiamo con l'ultimo pacchetto e speriamo andiamo ultimi 15.000 crediti vediamo se questa volta riusciamo a trovare un buon giocatore magari un informe no non ci credo Coentraumer pensavo avevo visto Real Madrid e Portogallo pensavo fosse lui ma non è CR7 quindi ragazzi si conclude qui il pack opening ho messo in vendita Coentrao subito non c'è nient'altro guardiamo se c'è qualche doppione buono eh Remy non male FUT United che vi ricordo che durerà dal 6 all'8 febbraio c'è anche un torneo speciale molto buono se volete guadagnare crediti detto questo ciao a tutti ragazzi al prossimo video